L'elicottero nemico individuato. L'elicottero nemico localizzato. Soltanto nemico! Soltanto visivo! Ehi, vedo un'elicottero nemico! Vedo un'elicottero nemico! Ehi, individuato un veicolo nemico! Soltanto visivo con un soltanto 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 nemico! Soltati, difendete questo abitivo. C'è un mitragliere nemico, a est della tua posizione. Queste altre sono specifiche migliorate. Ascoltate l'obiettivo, ci ha di neutralizzato. Ascoltate l'obiettivo. L'obiettivo Charlie è stato rispettato. Sì, sono soltato nemico. Vedo un veicolo nemico appena a sud di dove ti trovi. Elicottero! Un elicottero nemico! Sì, ho localizzato un elicottero nemico. Sì, ho localizzato un elicottero nemico. Vedo un mitragliere nemico, fuoco più a est di te. Elicottero nemico! Elicottero nemico localizzato! Ho individuato un elicottero nemico! Lei, ho individuato un elicottero nemico! Iscriviti il mio! Vedo un soldato nemico a nord rispetto a te. Arecchia a sud della tua posizione. Si è presente un veicolo delico. Confermo. Missile lanciato. Seguirà in pazzo. Cecchino avvistato. A est di dove ti trovi. Vedo un veicolo delico. Vedo un elicottero nemico. Postato visivo. Un elicottero nemico. Ho un elicottero nemico nel mio campo visivo. Controllate la massa per i rispondimenti. E' un elicottero nemico. Si trova più a nord rispetto a te. Abbiamo appena l'entralizzato l'obiettivo a destra. Uomini, proteggete l'obiettivo. A ovesta della tua posizione attuale. C'è un cecchino nemico. Attenzione, l'obiettivo d'esta è in mano nostra. Ho individuato un cecchino. Contatto visivo con un contatto con anticammo. Contatto nemico. Contatto visivo. Abbiamo appena perso l'obiettivo a destra. Vedo un cecchino nemico. Si trova a est rispetto a te. Ho localizzato un elicottero nemico. Ho individuato un elicottero nemico. Vedo un cecchino nemico più a nord della tua posizione. Contatto visivo. Un elicottero nemico. Elicottero nemico. Ho individuato un cecchino nemico più a nord della tua posizione. . Ho individuato un soldato nemico. Appena più a nord rispetto a te. . Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 L'elicottero nemico! Contatto emissivo con un escociolo nemico! Ho visto un soldato nemico! Contatto con un soldato nemico! L'elicottero hanno lanciato dei rifornimenti! Soldato nemico! Contatto visivo! Soldato nemico! Contatto visivo! L'elicottero è stato pieno nel senso! Guarda! L'elicottero è stato pieno nel senso! Guarda! Di questi soldati sono attivati! L'elicottero è stato pieno nel senso! Appena a nord della tua posizione c'è un cecchino nemico! Guarda! 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 Sembra che è a est della tua posizione, sicché un cecchino nemico. Un stando visivo con un soldato nemico! In corsa! Guardate la tua posizione! Ehi! Ho localizzato un cecchino nemico! Ho individuato un soldato nemico! Stato nemico! Contatto visivo! Stato nemico! Abbiamo appena terzi obiettivi bruciati! Stato nemico! 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 Vedo un cecchino nemico! A est della tua posizione! Attenzione, l'obiettivo Alfa è stato neutralizzato. Oh, non tardi, attenzione. Avete appena ottenuto la promozione. Abbiamo il controllo dell'obiettivo Alfa. C'è una tante delico. Riprova questa al teraporto a legge. Un'obiettivo Charlie neutralizzato. Soldati, attaccate questi furti. Andiamo il controllo dell'obiettivo Charlie. Il fatto missilistico è imminente. Attendere. Stato misivo con un soldato nemico. Utilizzato un elicottero nemico. Un'obiettivo Charlie. Sì, abbiamo appena conquistato l'obiettivo Bravo. Sì, è un soldato nemico. Da tutte le squadre, ci sono i rifornimenti. Appena avveste della tua posizione c'è un cecchino nemico. Ho individuato un elicottero nemico. Ho un elicottero nemico nel mio campo visivo. C'è un elicottero, sto localizzandosi. Vedo un elicottero nemico. C'è un elicottero nemico. A oda in territorio 6. Non controlliamo più le bimbociate. Ritornimenti a terra, controllate la mappa. Appena avveste della tua posizione c'è un soldato nemico. Abbiamo appena conquistato l'obiettivo Echo. Sembra ci sia un LAP nemico aese della tua posizione. A presto. A presto. A presto. Orà. A presto. Grazie a tutti.